Tutto è pronto per la Fiera dell'Epifania 2019, la 71esima edizione. Il 5 gennaio, come ogni anno, l'Aquila si riempirà di bancarelle. Saranno 360 di più rispetto al 2018, quando erano 300, e il percorso sarà più lungo. Saranno presenti anche gli ambulanti di piazza d'armi. Non ci saranno però solo bancarelle, un'iniziativa che più volte aveva annunciato anche l'assessore al commercio Alessandro Piccinini. Il giorno della Fiera sarà riempito anche da iniziative collaterali e spettacoli per grandi e piccini. Ci saranno clown e animazione a Piazza Palazzo, in via Maiella e nella zona del Castello. Sarà un punto fermo anche la lotta all'abusivismo, come ha spiegato il presidente di FIVA Confcommercio Alberto Capretti. Ci saranno come sempre presidi di pronta emergenza e sicurezza, ambulanze dislocate nello stadio Fattori, Corso Federico II, Via Pescara, Portaleone, una quarantina di addetti alla sicurezza e volontari saranno impiegati per tutta la giornata, oltre ovviamente alle forze dell'ordine. Le richieste erano state 400, ma ne sono state esaurite 360. Il percorso sarà più lungo, si partirà dalla zona della villa, poi si salirà verso Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele, Corso Principe Umberto, Piazza Palazzo, via Legranzasso, via Tagliacozzo, Fontana Luminosa, via Malta, via Luigi Signorini Corsi, via Castello, via Zara, via Maiella e via Francesco del Greco. La maggior parte degli operatori arriva dall'Emilia Romagna, naturalmente dall'Abruzzo, ma ci sono anche richieste e novità da Puglia, Sardegna e Sicilia. L'ospite di questa giornata sarà il ministro degli interni, Matteo Salvini, come annunciato, Emanuele Imprudente, assessore comunale, visiterà infatti le bancarelle dell'Epifania. La giornata di Salvini partirà alle 10 da Teramo, alle 17 ci sarà la visita al mercato dell'Epifania e poi alla villa comunale alle 19 un incontro pubblico. Le misure di sicurezza saranno imponenti per la visita del leader della Lega. Qualcuno sul web ha già annunciato qualche manifestazione di protesta, come già era avvenuto in occasione di un'altra visita.